Buongiorno e ben ritrovati. Oggi siamo nel cuore del centro di Bari, a pochi passi dall'Ateneo e dalla stazione centrale e vi proponiamo in vendita un ampio appartamento libero di quattro vani situato nella prestigiosa zona Murat. Varcata la porta d'ingresso ci accoglie un accogliente e luminoso salone, doppio, con balcone esterno che affaccia sulla suggestiva stazione centrale. Dal corridoio accediamo nella zona notte dove troviamo due camere da letto, una con balcone esterno e l'altra con balcone interno. Entrambe offrono uno spazio tranquillo e riservato. Una cucina abitabile, perfettamente apprezzata e con accesso a un balcone interno, dotato di veranda e ripostiglio. Un bagno padronale, un bagno di servizio e ancora un altro comodo ripostiglio per una vita quotidiana organizzata. Termo autonomo, condizionatori e portineria per un'esperienza abitativa, confortevole e sicura. Questo appartamento rappresenta un'opportunità unica nel cuore di Bari, con la sua posizione strategica che consente di vivere la città in modo pratico e comodo. Non perdete questa fantastica opportunità. Ciao, alla prossima!